Il Covo Milano Lambrate è stato aperto il primo aprile 2008 da Laura Coppola e Massimo Carraro che sono io. Da qui è nata l'idea di fare la rete Covo che ha aggregato intorno a un'idea di spazio condiviso in chiave collaborativa più di 80 spazi in tutta Italia. Abbiamo 7 postazioni per i co-worker residenti, cioè quelli che vengono tutti i giorni e possono usare lo spazio 7 giorni su 7, 24 ore su 24. E altrettante 7 postazioni per chi viene ogni tanto e può utilizzare dei pacchetti di giornate prepagate, acquistabili direttamente online e prenotabili anche direttamente online. Quindi 7 più 7, 14 più un ufficio interno chiuso e un tavolo riunioni disponibile liberamente per tutti. La cosa bella di lavorare in un co-working è che non sei soltanto in uno spazio condiviso, ma sei in una comunità, in un gruppo di persone che lavorano ma che hanno anche voglia di conoscere e di scambiare esperienze. Hai la possibilità di conoscere persone, professionalità diverse perché è bello lasciarsi contagiare anche dalle energie positive altrui. Io ho pensato di appoggiarmi a un co-working per avere un posto di lavoro e essere un po' più concentrata nell'attività. Per quello che è il mio modo di lavorare ed è quello della condivisione perché per me sono le idee che vengono da un gruppo a creare quel progetto vincente e credo che questo sia un progetto vincente. Riusciamo ad essere in contatto con tante realtà e tante professionalità diverse che ci arricchiscono professionalmente e spesso ci sono utili nei nostri progetti. Cercavamo uno spazio e in realtà abbiamo trovato molto di più. Noi cerchiamo di portare avanti il progetto di co-working cercando di essere sostenibili nei prezzi, collaborativi nell'approccio e aperti a tutti coloro che vogliono utilizzare uno spazio di lavoro condiviso. Un'ora, una pizza, un co-worker. E' il presentation lunch, il piccolo evento che ci siamo inventati qui al Covo Milano Lambrate per far conoscere meglio i co-worker tra di loro e anche allargare un po' il giro. Mangiamo insieme e dopo uno di noi si presenta a tutti gli altri. E' un evento inventato e pensato per la nostra community però aperto anche ad altri amici. Allora fate così, quando siete a Milano prendete la metro verde numero 2, scendete a Lambrate, venite in via Ventura 3 e noi vi accogliamo. Proverete il co-working presso di noi e sono convinto che vi piacerà. Vi aspetto. Grazie a tutti. 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 Grazie.